Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio. È vero. Ma poi vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva la notte. Pianceva sempre. Pianceva sempre. Sempre. E dissi fra me e me, beh, accontentiamolo e non se ne parli più. D'altronde lui può fare quello che vuole. Possiede 600.000 lire di rendita. 600.000 lire? Oh, strechetta. 600.000 lire. Ma che cosa sono 600.000 lire? Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adobriamo gli scecchi. Sì, lui lo sa. Tutti gli scecchi. Ogni scecchi è così. Ah. D'altronde il mio fratello, il principe, è qui presente. Ha già fatto testamento tutto in suo favore. Oh, sì, sì. Tutti i miei milioni sono di lui, di esso. Tanto cosa ci rimetto io?